Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere l'errore 1114 sul nuovo Counter Strike 2 ovviamente per risolvere questo errore possiamo direttamente andare su Steam, eliminare vari file all'interno della cartella di Counter Strike e ripristinarli tutti, reinstallando così nuovi file, quindi ripristinando questi file nella sua cartella quindi andiamo su proprietà, andiamo su file installati, sfoglia e file locati una volta entrati nella sua cartella cominciamo ad entrare nella cartella di CSGO questo è tutto il documento desktop backup, il server config.wdf lo cancelliamo, cancelliamo anche il voice.ban.dt e torniamo in dietro e cancelliamo anche questi due file una volta cancellati non ci resta che andare su verifica integrità dei file del gioco farà così la verifica ripristinerà così nuovi file aggiungendo file più aggiornati nella sua cartella e mentre sta facendo la sua verifica andiamo un attimo su Windows Update se dobbiamo fare qualche aggiornamento verifica disponibilità aggiornamenti aggiornamento accumulativo per Windows 11 versione venditura H2 ovviamente si basa anche sulle vecchie versioni di Windows 10 e le vecchie versioni di Windows 11 quindi va aggiornato anche su Windows Update e facciamo verifica disponibilità aggiornamenti e ci da solamente questo e facciamo scarica e installa mentre sta facendo il download andiamo un attimo su Steam e vedere se c'è qualche... ok la verifica sta ancora proseguendo ok ha fatto la sua verifica ha scaricato file nella sua cartella ha ripristinato così i file cancellati e una volta fatto andiamo sempre su Sfogli ai file locali andiamo su Bin se trovo CSGO Bin la cartella Win64 Bin Win64 scendiamo fino a giù fino a trovare CS2 ci clicchiamo sopra mostra altre opzioni proprietà andiamo su compatibilità eseguiamo questo programma come amministratore disabilità di ottimizzazione di schermo intero modifiche impostazioni dpi elevati quindi mettiamo su questi due facciamo ok e facciamo applica facciamo ok qua se in questo caso non dovessi andare Counter Strike 2 cancellatelo reinstallatelo oppure eliminate direttamente il launcher di Steam una volta fatto andiamo sul tasto Windows più R aprendo così esegui esegui lo puoi aprire anche qua sopra esegui app data scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella una volta entrati nella cartella app data ovviamente se vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella Steam cancelli la cartella Steam che ha solamente che esce ovviamente chiude un attimo Steam e cancello questa cartella e cancello questa cartella Steam cancelliamo così anche la cartella DirectX 3D Cache le Cache eccole qua pure e chiudiamo tutto e vedere se il nostro gioco va e vedere se il Counter Strike funziona il gioco funziona senza interruzioni quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao